Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi ricordate quel video dove vi ho chiesto di chiedermi delle domande e poi io avrei avuto risposto? Ecco, questa qui è il video, non fate caso che ho sempre la stessa maglia, però diciamo è l'unica più confortevole possiamo dire. Oggi risponderò a quelle domande che mi avete fatto. Allora, io avevo scritto fatemi domande, aspettate che... Dico un attimo con... perché qua c'è... ok. Claudio De Girolamo, che sarebbe un mio amico, mi aveva chiesto se è un grande, comunque grazie per la sorpresa che mi farà in 11 secondi. Vabbè, lasciamo bene. Grazie per avermi fatto questo complimento Claudio. Poi, Nicolas Ferrari. Nicolas mi chiede se sei appassionato a qualcosa? Quando tempo starai su YouTube? Allora... Sì, sono appassionato a qualcosa, sono appassionato ai motori, diciamo. Più che ai motori sono appassionato ai quad, mi piacciono tanto ai quattro ruote quad. E... sono appassionato a quelli. Ce ne avrò uno l'anno prossimo oppure più presto e... non lo so. Comunque ce ne avrò uno, ce ne avrò un quad e niente. Poi mi aveva chiesto quando tempo starai su YouTube? Ragazzi, non voglio demoralizzarvi. Starò su YouTube... Non lo so quando starò su YouTube, lo sapete? Dovrà decidere il destino. Non so parlare. Però credo che starò a lungo su YouTube. Comunque, diciamo, è un hobby YouTube, non è un lavoro, è per simpatia. Perciò credo che starò tanto su YouTube, non è che starò poco. Poi magari abbandonerò YouTube a 39 anni, a 40 anni, ma... Comunque starò tanto e non credo che l'abbandonerò facilmente. Anche se non faccio video, non l'abbandono. Cioè, comunque un video esce ogni tanto. E... Poi... Ehm... Max... LoveMax84 mi chiede che sarebbe Xmax, il vecchio Xmax. Come ti sei appassionato a YouTube? Porterei giochi horror? Allora... Mi sono appassionato a YouTube, diciamo, guardando gli altri YouTuber del modo di come parlavano, di come stavano, di come facevano ridere la gente. E quindi anche io volevo far ridere la gente. Perché comunque io sono un pazzerello da morire. E voglio anche io far divertire quelle persone che stanno sole a casa. Magari, che ne so, stanno sole a casa, i genitori lavorano e... Ehm... Sono tristi. E quindi vorrei far... Vorrei far avere un sorriso a quelle persone che purtroppo non ce l'hanno. Ehm... Quindi il mio scopo qui su YouTube è sia l'intrattenimento sia strapparvi un sorriso. Perché molte persone nella vita non hanno potuto avere quello che volevano. E quindi, diciamo, è questo il mio scopo. Poi mi ha chiesto, porterai giochi horror? Ci sto lavorando, ho trovato bellissimi giochi horror. E eh... Sul canale prossimamente usciranno... Mamma mia siamo in un canale televisivo. Usciranno giochi horror. Quindi mi raccomando, prendete la coperta, mettetevela sulla faccia, lasciate solo gli occhi perché... Giochi horror. Poi... Eh... Tedescan Fiel. Tedescan Fiel. Credo che ti chiami così, eh? Non lo so. Qual è il tuo colore preferito? Come ti chiami? Quanti anni hai? C'hai un animale domestico? Allora, Tedescan Fiel, quante cacchio di domande mi hai fatto? Ma che sei un hacker qua? Un hacker che mi fa delle domande e poi mi viene a rapinare. No, no. Non credo comunque, non credo. Comunque io ti rispondo perché comunque, cioè... È... È normale. Qual è il tuo colore preferito? Allora, il mio colore preferito è il rosso. Più che altro è il rosso acceso. Quello rosso acceso bello brillante. Però, riassumendo tutto il rosso, come le mie cuffie rosse, le vedete? È bellissima. Poi... Eh... Come ti chiami? Allora, tutti i miei fan sanno come mi chiamo. Io mi chiamo Nicola. Nicola. Il mio nickname è Nicolas24. Molti di voi facevano confusione perché pensavano che io mi chiamassi Nicolas. Però, togliendo la S, mi chiamo Nicola. Il mio nome principale è Nicola. Quindi tenetevi in mente. Nicola. Ecco qua. Come mi chiamo? Nicola. Bravi, bravi, bravi. Come mi chiamo? Nicola. Bravi, bravi. Come mi chiamo? Come? Ho rotto i coi. Scusate. Vabbè, comunque mi chiamo Nicola. Eh... No, non mi scusate. Poi... Eh... Quanti anni hai? Allora... Modico i miei anni. Non mi prendete in giro nei commenti perché sennò mi banno a tutti. C'ho dodici anni. Quasi dodici anni. A maggio faccio dodici anni. Il mese è prossimo. Quindi praticamente c'ho dodici anni. Sono un bambino da dodici anni. Mi prendete in giro nei commenti che sono un bambino. Fortnite kid. Minecraft kid. Come... Mi chiamate voi. Eh... Comunque, ve l'ho detto. C'ho dodici anni. C'ho quasi dodici anni. Poi... C'hai un animale domestico? Ovvio che sì. Ovvio che sì, ragazzi. C'ho un animale domestico. C'ho un volpino. Una volpina perché è femmina. C'ho una volpina femmina. C'ho una volpina rossa. Non bianca. Mi piacerebbe averla bianca. Infatti la vorrei far accoppiare. Magari esce una volpina bianca. Un volpino magari maschio e più bello. E... Ehm... E' una volpina rossa. E si chiama Perla. Mamma mia. E' troppo affettuosa. Veramente. La voglio un sacco di bene. Ehm... Sul mio canale c'è. Se andate un po' a sfogliare nei video la vedrete. L'ho fatta vedere. Sul canale. E' una volpina. Ehm... Niente. E' una volpina molto bella. Se mi chiedete perché c'ho questi occhiali. Non me lo chiedete. Perché li ho voluti mettere. Perché me li hanno dati. Quindi io me li metto. Anche se non ne ho bisogno. Però... Me li metto. Comunque ragazzi. Queste qui erano tutte le domande. E grazie mille per il supporto. Perché ho preso il mouse. Grazie mille per il supporto. Per tutte queste domande. Ho lasciato il cuoricino a tutti quanti. E niente. Grazie anche. Grazie a tutti quanti. E niente ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo bellissimo video. Qua sul canale. Bella bro. Bella brothers. Compagni e guys miei.